d'estate al mare adesso si partirà mi raccomando le ferie le partenze intelligenti che poi queste partenze intelligenti io l'hai fatto è una camorrea è un travaglio ma stiamo scherzando che poi per partire intelligente devi partire alle quattro e un quarto di mattina devi caricare la macchina borsoni valigie le scarpe centinaia di scarpe perché tua moglie traslocherà sicuramente allora tu che fai ti metti lì a caricare la macchina alle cinque dobbiamo partire ti metti in autostrada e pare che lo sappiano tutti sono tutti e dai cinque anzi sembra proprio che aspettavano a te arrivi in autostrada piena uno ti guarda e fa picciotti è arrivato miseria potremmo partire ma come dire tutta c'è questa casa lasciateva la casa intelligente la partenza lasciate la mia miseria